Abbiamo avuto questo incontro questa mattina con alcune delle amme dell'86, io e il sindaco di Camporosso e c'è stato un po' uno scambio di vedute, più che altro abbiamo ascoltato quelle che sono le loro richieste, i loro dubbi, le loro perplessità sulla questione della discarica dell'86, della discarica pubblica. Insomma c'è un po' di confusione, non solo dalla parte degli amministratori, ma qualche cosa andrebbe un po' più approfondita probabilmente da parte di tutti. Devo dire che ci troviamo in questo momento a un bivio, va deciso se andare avanti con i lavori o meno. Una situazione di stallo, di stand by, di questo tipo qua, non può che creare dei problemi a tutti quanti. C'è un percorso che è stato prestabilito, non è stato condiviso da tutti, ma c'è, e va deciso se portarlo avanti o meno. Soprattutto è quello che chiederemo a dettaglio, quali sono i costi che dovremo sopportare tutti quanti, come amministratori, come cittadini, nel momento in cui si decidesse di non andare più avanti. È stata in qualche modo presentata la possibilità di portare i rifiuti fuori. Io e altri sindaci di questa provincia è tempo che chiediamo quali sono le possibilità per portare i rifiuti fuori in regione. Io mi auguro che oggi la regione sia in grado di darci qualche possibilità in più. Vediamo se sarà fattibile, se non sarà fattibile, però insomma dobbiamo cercare di chiudere in modo responsabile il più in fretta possibile, perché il rischio vero è poi nel corso di qualche mese di trovarsi in situazione di emergenza vera e propria. Quindi le cose vanno fatte, bisogna capire, ascoltare tutti, però poi le decisioni vanno prese nell'ottica di andare verso l'interesse di tutta la provincia dell'Imperia.